Io da consigliere comunale di opposizione, consigliere comunale libero, denuncio le situazioni di degrado in città, l'abbandono, il menefreghismo, la strafottenza dell'amministrazione Melucci. Lo faccio documentando con le immagini le situazioni, andando a raccogliere le segnalazioni dei cittadini, amplificandole mediaticamente e poi andando negli uffici di competenza presso gli assessorati sollevando le questioni. Ma da un orecchio entra e dall'altro esce. Però quello che io dico, ve lo sto dimostrando, ve lo dimostro ogni giorno, è confermato dalla viva voce dei cittadini, dal cittadino che paga le tasse. Ci troviamo in piazza Messapia, piazza Maria Auxiliatrice e una signora, mentre ero intento a fare una delle mie azioni di denuncia, mi ha detto vorrei dire qualcosa al microfono. Prego signora. Buongiorno. Prima di tutto ringrazio di questa tua idea da fare per segnalare tutte le varie problematiche, cosa che manca a Taranto. Seconda cosa, non solo in questa piazza, in tutte le piazze ci dovrebbe stare un po' più di controllo, ordine, disinfettazione, gli alberi che non vengono curati, non vengono innaffiati. Ma anche signora abbiamo evidenziato, abbiamo evidenziato... ...interessare il sindaco e la prima cosa, al di là di tutto questo che sto elencando, anche quest'albero che sta da mesi qui, giocano i bambini, come potete vedere, è una cosa proprio... Ma signora, l'albero è il minimo, il problema è la pavimentazione sollevata. La pavimentazione più che altro con l'albero, non solo qui, anche più avanti... E si cade. ...e la gente cade giustamente, purtroppo cade, quindi dovrebbe intervenire, non subito, urgentissimo, subito... Io sono caduta all'altro angolo, quando i marciapiedi erano tutti rotti e infatti sto in causa con l'avvocato che sta cercando questi problemi di caduta e mi hanno una conseguenza al piede, c'è tutto ancora gonfio da mesi che ancora non passa e proprio per questi motivi e quindi si dovrebbe sistemare tutto perché come sono caduta io... Soprattutto se cadono persone ancora più anziane, con danni gravissimi, una vecchietta, l'ho già detto, che si rompe un femore, la fine... Infatti io sono ancora giovane, ancora ancora, però anche se ho avuto il danno, ma persone più anziane di me, è grave, perché con queste conseguenze chissà come va a finire... Abbiamo, diciamocelo signora, un sindaco assente... Infatti un sindaco assente, proprio così... Si è mai visto da queste... Si fa le manifestazioni, le processioni, però bisogna, le cose più importanti, il lavoro e sistemare... La vivibilità urbana La vivibilità urbana e sistemare queste cose e in più non solo qui, anche le altre piazze da innaffiare, disinfettare... Anche perché le persone la sera vogliono uscire, prendere un po' d'aria, tanti anziani... Prendere più in considerazione, mettere anche delle fontanelle, delle piante, però dopo che si è sistemato tutti i problemi gravi... Soprattutto la pavimentazione... La pavimentazione, i bambini giocano, gli anziani, è pericoloso... Poi scusatemi, mi sono ricordata che come è caduto quest'albero, c'è in pericolo anche gli altri alberi da controllare... E questa è una cosa molto grave, che sono in pericolo, che potrebbero cadere da un momento... Signora, ma Melucci si è mai visto qui? No, sinceramente io non l'ho mai visto e poi a parte questo, anche nella zona di mare, sulla Litorania, visto che ci sono... Dico anche questo, c'è un percorso della strada, che una, la zona del mare, conchetta di San Vito, sta crollando e decedendo tutta... Ha messo una ringhiera così la gente non va al mare... La solita transenna, e chi si è visto? La solita transenna, se chi si è visto, si è visto e lei è pericoloso, perché sta camminando la roccia lì sotto, sta frenando pure la strada... Quindi c'è pericolo che chiunque può cadere da un momento all'altro è pericoloso... Signora, possiamo dire... E anche più avanti, la stessa cosa... Abbiamo un sindaco fantasma... Infatti, un sindaco fantasma, quindi io ho mandato parecchie volte le email, ho provato a contattarlo... Ha segnalazione agli uffici tecnici? Per poter parlare con lui, mi hanno detto che lui non riceva il pubblico e questa è una cosa grave, grave, grave... Significa non avere rispetto dei cittadini, perché lui dai cittadini è stato eletto... Infatti, vergognosa e anche di più, proprio perché è stato eletto e quindi dovrebbe prendere in considerazione... E fare come altri sindaci... Aggiungo che purtroppo queste piante, questi alberelli che hanno piantato, io e mio marito abbiamo deciso, visto che lei sindaco non si interessa a questo, per poterle dare ancora vita a questi alberi, che è vita, è natura e vita... Ci siamo dati da fare io e mio marito, con i sacrifici, perché abbiamo anche noi dei problemi di salute, a innaffiare queste piante per evitare che potessero seccare... Ma soprattutto quelle più tenere, più giovani, che hanno bisogno di acqua, altrimenti seccherebbero... Sì, 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 in effetti, infatti qui si vedono questi alberi purtroppo, che non sono stati innaffiati, conferma, morti, morti, morti... E poi anche gli altri alberelli che stavano per seccare, meno male che grazie a me e mio marito, in una nostra iniziativa, perché amiamo la natura e questa è vita, ci siamo dedicati, decisi, con i sacrifici a innaffiare le piante... Questo è il mio modello di città, morti, morti, seccati... Ecco perché io dico, il mio modello di città è quello di che un'amministrazione, un sindaco, stia accanto alla gente, ascolti i problemi... È bellissimo che in una piazza ci siano dei cittadini che danno una mano, che collaborano, che adottano una piazza, però non basta, l'amministrazione deve fare la sua parte. Signora, io le stringo la mano, le stringo la mano perché io sono un consigliere comunale di strada, nel senso che, lo vedete, sono uno dei pochi, io Massimo Battista, ma siamo proprio quelli che consumiamo le suole delle scarpe e vogliamo dare voce al cittadino. E io, signora, la ringrazio della sua disponibilità, ma anche del suo coraggio perché bisogna denunciare i problemi, non nascondersi perché poi alla fine non serve niente. Magari mi auguro che il sindaco, vorrei darle l'opportunità, che magari io non ce l'ho con lei, però mi auguro che prendi in considerazione questa mia segnalazione, come tante persone che mi hanno detto se si poteva fare qualcosa, io sto facendo anche portavoce da tante, tante, tante persone. Magari, signora, creare un bel comitato, questo si potrebbe fare, per unire le forze. Sì, sì, creare un bel comitato e mi auguro perché comunque vedo che lei dove vuole, mi faccio sentire, le fa vedere, quindi mi auguro come le altre cose, prendi in considerazione queste situazioni qui che io ho elencato. Grazie, signore. Riceva al pubblico, più che altro quando uno va riceva al pubblico per i vari problemi. Mi sto toccando la testa perché siamo tormentati dalle mosche. Sì, viene dalle mosche, infatti, c'è da disinfettare, è una cosa proprio, anche le infezioni per noi, non solo, anche per i bambini, è una cosa molto grave. Comunque mi auguro che questo è il mio portavoce, dalle altre persone, da me, che lei le prendi in considerazione. Buon lavoro, sindaco e buona giornata. Grazie, signora, buona giornata anche a lei. Grazie, signora. Grazie, complimenti per il suo lavoro. Grazie. Buona giornata. Salve, signora.